Bentornati su MyFootballJersey. Vi presento una maglia che avevamo già visto in passato anche in anteprima, trovate qui in alto la recensione. Questa dell'Arsenal, questa volta in versione player. Grazie a tutti. La maglia è stupenda. Questo verde, questo blu, questo accostamento di colori, devo dire veramente molto bello. Il costo lo vedete qui sopra. Ecco, quello secondo me è ancora più bello. Qua sotto in descrizione, qua, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito per scoprire questa e altre bellissime sorprese che vi attendono. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto, ma ci aiuta a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Allora, un pezzo! Grazie a tutti.